Il momento della nostra carta costituzionale all'attualità, quando è stata scritta la prima, la Costituzione, non c'era l'Europa, non c'era l'Europa sopra, non c'erano le regioni sotto. È naturale che oggi dobbiamo avere un momento di contestualizzazione, di adeguare la carta nella parte che va modificata, non nei principi che sono immodificabili ed è la più bella e rispettata. Come lo spiega il malcontento forte in Calabria che si salda per certe cose? O non è così? Lei è un'altra sensazione? Io ho la sensazione che man mano che si entra nel merito della discussione sulla legge di riforma costituzionale aumentano i consensi da parte di si conoscere la riforma. Perché è uno sforzo, come una volta diceva, l'articolo 70 è incompensibile, l'articolo 70 è semplicissimo, è la declaratoria delle leggi che devono passare. Cioè, man mano che lo si approfondisce, il sud mi sembra... Cioè, man mano che lo si approfondisce, l'articolo 70 è semplicissimo, è semplicissimo, è semplicissimo, è semplicissimo, è semplicissimo.